Non dimenticatelo mai, siamo qui perché amiamo la vita, le mafie non uccidono solo con la violenza, vittime sono i morti assassinati, ma vittime sono anche i morti vivi, le persone a cui la mafia tolgono la speranza e la dignità. C'è tutto un mondo che vive al contrario, dove le vittime muovono di vergogna e chi li uccide è un uomo d'onore, un mondo in cui il gioco è schiavitù, dove per lavorare devi chiedere permesso, non si fosse un favore, dove chi rompe il silenzio e chi gli aiuta rimane solo, perché la legge sui tempi, perché se ne andate a cercare, perché è uno sbirro, un mondo di morti vivi, ma esiste un altro mondo in cui vivere, un mondo dove sbirro, dal latino sbirrus, vuol solo dire rosso, come il sangue delle vittime innocenti e il cuore di chi li ricorda, un mondo dove la vergogna è di chi taglieggia e non di chi ha il coraggio di ribellarsi, perché chi rompe il silenzio deve trovare chi lo ascolta e non deve restare solo, ma intrecciare la sua vita con quella di tanti altri, come in una rete. Anzi, come un tappeto, che ha le maglie più strette, un tappeto rosso ovviamente. Grazie a tutti. Grazie a tutti.